Al via ieri sera la 48esima edizione del Feiano Film Festival Teatro d'Annunzio di Pescara inaugurare la rassegna il direttore artistico Riccardo Milani Alessandro Gasman che ha ricevuto il premio internazionale per l'interpretazione del film Non Odiare di Mauro Mancini con Sara Serraiocco e appunto Alessandro Gasman si riparte con le misure di sicurezza richieste dall'emergenza sanitaria e la voglia di ricominciare ha detto il regista Riccardo Milani direttore artistico del Feiano Film Festival le proiezioni dei film in rassegna si terranno come da programma consultabile sul sito dei premi Feiano fino al 2 luglio poi sabato 3 e domenica 4 sarà la volta delle premiazioni per la narrativa e l'italianistica il teatro, il giornalismo, la radio, la televisione, le serate saranno seguite in diretta da Rete 8 in particolare il 3 luglio Pegasodoro alla nostra emittente per il docufilm Gli occhi di Liboglio tratto dal libro premio Campiello 2020 di Remo Rapino tre protagonisti del filmato da un'idea del direttore Carmine Perantuono con la regia di Antonio Dottavio, le immagini dall'alto di Alessandro Lancio e le musiche di Davide Cavuti Alessandro Gasman ha raccontato del film Questo è un bellissimo film, Mauro Mancini ha scritto e diretto un piccolo film molto importante un film che ha viaggiato tutto il mondo, è stato già in più di 100 festival in tutto il mondo abbiamo ricevuto premi importanti, Mauro ha fatto un debutto bellissimo parliamo di possibilità, di comprensione tra persone che la pensano in maniera opposta parliamo di odio dal titolo e la nostra società è imperniata sempre di più in questo difficile problema che non mi sembra di semplice né di rapida soluzione Alessandro Gasman ha poi parlato di come Egno Flaiano era di casa compagno di lavoro e amico del mattatore il padre Vittorio che nel 1994 ritirò il premio alla carriera per il teatro e fu più volte a Pescara ospite dei premi Flaiano del patrone Edoardo Tiboni il cui testimone è stato raccolto dalla figlia Carla Tiboni Beh sì, questo per me è un... non ho un ricordo fisico di Flaiano ma sicuramente mio padre che era grandissimo amico di Ennio Flaiano come lo era tutto il cinema a Roma in quel periodo Flaiano è un personaggio fondamentale nella costruzione della cultura italiana del Novecento grazie a lui il cinema italiano è cresciuto il giornalismo, l'umorismo, la letteratura e anche il teatro mio padre ha miso in scena un marziano a Roma e Flaiano fu un insuccesso clamoroso come mio padre molto fieramente diceva era uno spettacolo molto avanti che parlava appunto di comunicazione e di apparenza atterrava un marziano a Roma tutti i giornali parlavano solo di questo ma dopo due giorni già era passata la moda e non se lo filava più nessuno Flaiano è un monumento per questo paese e sono molto onorato di ricevere un premio che porta il suo nome perché ritengo che sia veramente importante non soltanto per quella che è stata la carriera di mio padre conoscerlo ma per tutto il cinema italiano in particolare